Un'altra occasione persa per la Cremonese che dopo essere riuscita a ribaltare il punteggio con la doppietta di un Chirilov ispiratissimo, si fa frenare sul pareggio a due minuti dalla fine. La trasferta al comunale Città di Meda inizia nel peggiore dei modi per i Grigiorossi, è il terzo quando Ciccone controlla male, Scacabarozzi ne approfitta per servire Cocuzza che trafigge Galli. Gara in salita per gli uomini di Giampaolo che al 22esimo sfiorano il pareggio con una conclusione di Jadid deviata da un difensore. Gli sforzi della Cremo vengono premiati al 25esimo, Jadid mette palla in area malgrati di testa allontana male, la palla arriva a Chirilov che non si lascia pregare e al volo mette in fondo al sacco. Il Renate si risveglia e in contropiede sfiora la rete con Mucchetti che manda a lato su assist di Cocuzza. Il primo tempo si conclude con la sventola di Jadid su calcio di punizione, Cincilla si salva in corner. In avvio di ripresa il portiere locale compie un altro miracolo deviando in angolo un colpo di testa di Brighenti servito da Alessandro Marchi. A fare la partita sono i grigiorossi, il più pericoloso è sempre Chirilov ed è proprio il bulgaro a segnare il gol del 2-1 per la Cremo al 73esimo. Quando servito da Alessandro Marchi si invola verso l'aria e dal limite lascia partire un sinistro che trova la deviazione di Adobati e assume una traiettoria imparabile per Cincilla. Sembra fatta ma a due minuti dal termine Mucchetti serve sul filo del fuorigioco Spampatti che viene messo giù da Galli in uscita disperata. Giallo per il portiere e rigore che il neo entrato Radrezza trasforma per il 2-2 finale. Una beffa, una doccia gelata per una Cremonese che di spiccare il volo proprio non ne vuole sapere.